Weee! Non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi oramai ci siamo! Oggi giornata fondamentale per il futuro di Fortnite perché tra poche ore troveremo la patch 10.440. Con tanto di downtime dei server vi ricordo che sono in live sempre tutti i giorni su Twitch e anche oggi mi troverete di là con i leaks in tempo reale su tutto quello che verrà inserito e che ci farà capire quello che accadrà per chiudere questa season che è stata veramente molto nostalgica ma anche molto molto contestata. Nel video di oggi parleremo oltre che della patch appena citata anche del nuovo sistema di mira Già sono uscite nella pagina ufficiale di Fortnite alcune indicazioni sulla nuova modalità di assistenza alla mira per i giocatori da pad che diventa veramente un qualcosa di super super preciso Quindi vi farò vedere un po' di immagini ufficiali e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati su tutto quello che c'è nel dietro le quinte di Fortnite. Volevo prima però ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator Xyuderone. Grazie di cuore ragazzi per supportarmi quando ciò pazzate di prepotenza mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima c'ho una domanda, ieri mi avete risposto in migliaia proprio grazie di cuore ragazzi per i commenti che mettete sempre qui sotto alle mie domandine Quella di oggi, quella di oggi. Allora no, non mi riempite ragazzi voglio sapere è meglio il pad o è meglio la tastiera e il mouse? Che domanda, che domanda! Voi cosa ne pensate? Cosa preferite? Io ho utilizzato sia il pad che il mouse e la tastiera E devo dire che una volta che ci pigli la mano con mouse e tastiera non ne fai più a meno perché la precisione è veramente notevole La complicazione è ovviamente utilizzare la mano sinistra o destra se siete mancini per muovere appunto le dita correttamente Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti Ma quindi, ciancio le bande! E bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere il post ufficiale sul tweet di Epic Games Reach for the star, guarda verso le stelle, raggiungi le stelle L'update 10.40 arriva tomorrow, in realtà oggi, questo è il post di ieri Arriverà anche il downtime Quindi dovrebbe arrivare alle 10 come lo è sempre, come hanno sempre fatto alle 9.30 Vanjui server per chiudere le ultime partite Dalle 10 si comincia la patch notes arriva invece oramai come abbiamo già capito al termine del download E al momento in cui i server torneranno online Ma andiamo avanti perché anche questa immagine è molto interessante e lascia veramente capire quello che ci dovremmo aspettare Questa che vi sto facendo vedere particolarmente è una fan art Ma in realtà nasconde quest'altra immagine che invece è presente nei file di gioco E come vedete non è altro che il bottone di accesso all'ultima partita della season 10 Quella dove ci sarà l'evento Quindi ragazzi, evento confermato e si chiamerà The Hand La fine La fine di che? Della mappa? Alcuni hanno scritto nei commenti la fine di Fortnite No, raga, Fortnite andate calmi che non finirà nel senso Probabilmente la fine la bisogna intendere un pochettino come appunto Modifiche pesanti se non totali alla mappa Quindi ovviamente staremo a vedere un pochettino cosa ci riserva questa patch E andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi Ecco qua, quello di cui vi parlavo Modifiche alla mira per i giocatori da PAD Arriva una bellissima descrizione da parte di Fortnite Dove dice implementeremo un nuovo sistema di mira Basato sullo spazio dello schermo Cosa vuol dire? In questo modo ci sarà più probabilità In poche parole, senza starvi a leggere tutto Vogliono migliorare l'area intorno ai pixel Dove c'è il target che vogliamo colpire In modo che sia più preciso E non solo Vogliono anche implementare il danno multiplo Cosa vuol dire? Vuol dire che per qualche strano motivo Vuoi perché stiamo facendo un fight contro due Vuoi perché stai giocando magari la modalità rissa squadre Ci sono più giocatori vicini Avrà molto più senso Ad esempio sparare con un fucile a pompa Per dirti, il fucile a pompa spara Una raffica di pallottole Di solito vanno tutte nella direzione che stiamo mirando Ma in realtà la rosa di pallottole Dinamicamente si espande Più va avanti il colpo E quindi implementeranno Miglioreranno anche questa possibilità Di fare i double damage Chiamiamoli così Quindi colpire anche chi è vicino di avversari Abbiamo delle schermate di caricamento Dedicate alla nuova sensibilità Molto interessanti Come vedete vengono aggiunte tantissime nuove voci Per settarla in maniera davvero impeccabile Quindi Epic Games continua pesantemente A credere che si possa migliorare la mira Per gli utenti che utilizzano il pad Io continuo a dire Che dovrebbero fare un matchmaking Qualora ci fossero dei giocatori Che utilizzano il pad sul pc Dedicato solo a chi utilizza il pad sul pc Perché tanto lo sappiamo Si può capire quando un giocatore usa il pad Loro anche lo possono capire benissimo E allora fate questo matchmaking Dove chi usa mouse e tastiera Gioco con chi gioca mouse e tastiera E chi usa il pad Gioco con chi gioca il pad Ovviamente questo discorso Non è assolutamente applicabile A chi gioca per le console Perché penso che non sia così vantaggioso Giocare in realtà con mouse e tastiera Ma andiamo avanti con il prossimo Argomento ragazzi incredibile Dalla season 11 Verranno implementati i bots No non sono io raga No 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 I bot in game Ancora migliorie o meglio Modifiche upgrade Sempre da parte di Epic Games Per continuare a dare possibilità Ai giocatori meno forti Di fare kill E di avere un'esperienza di gioco Che possa essere sicuramente appagante Continua ad essere comunque contrario A determinati inserimenti Sono anche contrario All'introduzione dei bot Perché non ha senso Nel senso Cioè Non capisco il perché Già alcuni bot ci sono Su Realm Royale E non sono così divertenti In realtà Da killare come potrebbe essere appunto Killare una persona vera Vuoi per un fattore personale Di capire il tuo livello Attuale di gioco Vuoi perché Non mi sembra giusto Che diano questa possibilità O meglio Anche qua Mi fai un matchmaking Personalizzato Come ne parlavo in questi giorni Nelle live su Twitch Fai un matchmaking Personalizzato Basato sul numero di vittorie In singolo del giocatore Io ho X vittorie Vengo matchato Con chi ha un range di vittorie Meno 20 Più 20 In singolo Rispetto alle mie È un parametro Che secondo me Ha senso Chi magari ha poche vittorie Allora sì Lo butti dentro In alcune partite Che hanno dentro i bots Così almeno ci pigliano Un pochettino la mano Non lo so Una cosa molto particolare Che vedremo sicuramente In season 11 E andiamo avanti Anche se il tempo Oramai è quasi terminato Una carrelata velocissima Delle nuove skin Della patch 10.40 Quindi quella che vi ricordo Questa mattina Arriverà alle ore 10 Che vivremo insieme Su Twitch E che ovviamente Ci farà capire Quello che dovremo aspettarci Al termine di questa season Anche bellissime Le nuove coperture Io vi ringrazio tantissimo Per aver guardato questo video Mi raccomando Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Noi Ci vediamo di là su Twitch Ciao Io vi ringrazio tantissimo Noi 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 Noi